La provincia di Teramo punta su alcune infrastrutture viarie e strategiche, come la pedemontana nord-sud, con una specifica attenzione al tratto Bisenti-Cerminiano-Penna-Sant'Andrea, la strada panoramica del Gran Sasso, la rete provinciale della mobilità ciclistica, il ponte sul Vomano, che collegherebbe le aree industriali di Roseto, Atri e Pineto. Il pacchetto contenente queste opere è stato presentato al ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini. Il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, ha chiesto con determinazione di finanziare le grandi reti di collegamento interprovinciale, altrimenti tutto il territorio non costiero rischia una vera marginalità. Il dossier presentato al ministro andrà ora condiviso con le regioni, con l'ANAS e le ferrovie dello Stato. Giovannini ha indicato come percorso quello di costituire un tavolo di lavoro con le province per redigere linee guida condivise. Un'operazione che restituisce la giusta attenzione alla viabilità secondaria, alla quale, dopo la riforma del Rio, non è stata assicurata da parte del Governo linee di finanziamento stabili, causando un progressivo ammaloramento delle strade. In provincia di Teramo, in particolare, la situazione è davvero grave, dichiara il presidente di Bonaventura, perché, oltre alla mancanza di fondi statali, si sono avvicendate numerose drammatiche calamità naturali, dai terremoti alle alluvioni. Non è un caso che le principali fonti di finanziamento sono state quelle straordinarie, mentre sono venuti a mancare i fondi ordinari che garantiscono la programmazione annuale degli interventi. È apprezzabile questa inversione di tendenza, conclude di Bonaventura. La provincia di Teramo è pronta, con delle opere che sono accompagnate da una fase molto avanzata di progettazione. Grazie a tutti.